Tunisia-Francia termina con 1-1 a 0 per la Tunisia, stranamente ha vinto la Tunisia, anche perché la Francia è sempre stata favorita, ma non solo in questo mondiale, anche in altre competizioni calcistiche, viene sempre considerata come una delle migliori. Ha perso, clamorosamente ha perso, la Tunisia fa un gol e basta un gol, che arriva nel secondo tempo a firma di Wabi Kasri, che riesce a metterla dentro in modo competente, ma soprattutto disinvolto. Il risultato pone la Tunisia dunque ad un livello alto, elevato, predomina nei confronti della Francia, che purtroppo, per fortuna, a seconda dei punti di vista, perde clamorosamente, parlando, rimane a 0. Grazie a tutti utenti di Youtube, il video termina qua. Iscrivetevi al mio canale Narratore Italiano, commentate, complimenti alla Tunisia, peccato per la Francia.